Figlia di un'antenza giornata di lavoro che poi nella sera trasforma il desiderio in pura, esuberante femminilità. Avrà senso quello che dico. Una bellezza quasi nordafricana. Occhieggia birbante alla propria compagine. Ed ecco, sorge Soleil. Spregiudicata. Un passo da gazzella in un abito rosa che pennella il suo corpo come se disegnato da un increpito pittore. Nonostante la sobrietà dell'abito, la vehemenza con la quale lo indossa, induce il maschio a gettare su di lei i sguardi ingordi per trasformare la notte in un momento di pura passione. Se n'è andata subito perché lei sa ciò che vuole. Hai capito però? Ce ne sta. Eccole qua di sera. Lavoratori e influencer. E' come. Lavoratori e artisti suv commandments. E' come. E' come. E' come. E' come. E' come. E' come.